Io penso che la memoria non mi inganni ma sono gli stessi Sir Filippi, Del Vecchio e la Forza Italia che, capitinati da Aguzzi fin dal 2010 circa, hanno avallato l'ipotesi di ospedale unico e questi sono i risultati. Gli stessi che oggi in Consiglio Comunale non votano la mozione popolare contro l'ospedale unico proposta dal Movimento 5 Stelle e da altre forze politiche. Quindi questa polemica è alquanto stucchevole. Oltretutto va bene ricordare che sempre con Aguzzi 22 sindici avevano firmato un documento per fare l'ospedale unico a Monbaroccio. Quindi gli stessi Del Vecchio e Sir Filippi ci avrebbero voluto, ci vogliono probabilmente tutti i monbaroccesi a questo punto. Senza nulla togliere chiaramente dal punto di vista negativo al centro-sinistra, Fanese, capitanato da Seri, anche egli fin dal 2014 quando si è insediato ha ribadito la volontà di operare per l'ospedale unico. Quindi la chiusura di quello di Fano e di Pesero. E quindi in questi giorni, anche in queste settimane, sentiamo un silenzio assordante anche da parte di Seri che nelle sedi opportune non ha ribaltato assolutamente il tavolo puntando su altri obiettivi, ma anzi ha continuato ad avvallare l'ospedale unico con una proposta politica che è quella di Chiaruccia che è pari a zero, è come se avesse proposto l'ospedale unico sull'Uno. Avrebbe avuto lo stesso risultato politicamente Fano è succube del PD Pesarese e della provincia e della regione e quindi chiaramente la proposta di Chiaruccia è stata scartata come era ben prevedibile. A questo punto cosa fare? A questo punto rimane solo un'azione da fare per i cittadini che è la partecipazione e il voto a livello nazionale, a livello locale. Per invertire questa tendenza ci sono già molti sindaci che il Movimento 5 Stelle appoggia che hanno un'alternativa che è quella appunto del policentrico, vuole dire riqualificare e riorganizzare le strutture esistenti per far sì che la sanità sia vicina ai cittadini e non in un unico polo lontano da tutti. Questa è l'alternativa che ormai i cittadini fanesi e italiani hanno a loro disposizione.